Salvo Puglisi, quali sono i nemici in questo momento per far decollare la vostra offerta, che è un'offerta già ben dettagliata, che viene appunto ufficializzata a livello di amministrazioni e che intende attrarre comunque anche imprenditori dall'estero? Quel nemico io lo identifico, sai in che cosa? Nello scatto culturale che siamo obbligati tutti oggi a dover fare. I nemici di questo territorio, sculpa, fammi passare il termine, siamo stati noi. Nelle nostre forme di cittadini, i nemici siamo stati noi buttando la spazzatura dove non si può, non sviluppando il territorio come si dovrebbe, non andando oltre i campanilismi come noi oggi stiamo cercando di fare. Quindi il nemico è questo. Noi dobbiamo essere oggi in condizione, carte alla mano, di avere un sogno diverso rispetto a quello che c'è stato nel passato e dobbiamo essere coscienti che abbiamo bisogno prima di tutto noi di fare uno scatto culturale. Poi, sai, attribuire al mancato sviluppo di questo versante o comunque di questa Sicilia, di questa nostra Sicilia, il fatto della politica, della burocrazia, della malapolitica, questo può essere il solito capro espiatorio che c'è sempre stato. Noi dobbiamo andare oltre anche a questo. Aprire le porte dell'Etna è un investimento importante che può venire da fuori, quindi dal mondo dell'imprenditoria. Non abbiamo paura o problemi a confrontarci su questo, abbiamo le idee chiare. Quindi la preoccupazione potrebbe essere questa, che non riusciamo come territorio a fare quello scatto culturale che ci permetterebbe questo foglio di carta, che è il foglio di carta non è, di farlo diventare veramente il progetto del territorio. Però io per natura sono ottimista e la determinazione la stiamo dimostrando, lavorando all'agremente tutti i giorni su questo progetto e su altri progetti importanti. Quindi ti dico, sono ottimista, mettiamo in condizione chi vuole investire su questo territorio di trovare dall'altra parte delle amministrazioni giovani, elastiche e che fanno questo scatto culturale in avanti. Quindi non vedo nemici, ecco, se non quello di dire questa volta dobbiamo farcela, dobbiamo farcela ragionando in maniera diversa da come fino ad oggi si è fatto. Antonio Camarda, in chiusura, Sindaco di Castiglione di Sicilia, quale sarà il prossimo passo? Il prossimo passo è l'imminente intanto pubblicazione del bando da parte del Comune di Lingua Glossa, che è il Comune capofila di questa iniziativa. Anche qui, magari altri avrebbero litigato per individuare il Comune di Capofila, noi siamo guardati, ma lo fai tu, lo faccio io, non cambia nulla. Il Comune di Capofila è Lingua Glossa, pubblicazione del bando, poi si aspetteranno i tempi tecnici per vedere se gli imprenditori per verificare l'arrivo delle proposte e da lì, augurandoci che ci siano più proposte, si faranno le valutazioni delle stesse. Cosa immaginiamo noi? Noi immaginiamo, è chiaro che dobbiamo sognare, perché se non sogniamo noi come amministratori pubblici, chi può sognare? Perché siamo noi deputati a immaginare uno sviluppo del territorio. Noi sogniamo collegamenti alternativi, io dicevo la cabinovia che dalle gole dell'Alcantara arriva a Castiglione di Sicilia, da lì un trasporto verso Lingua Glossa, quindi chi arriva lì fruisce di quei beni culturali, intanto naturali, un museo a cielo aperto, l'Etna e l'Alcantara sono un museo a cielo aperto. Noi sogniamo che questa cabinovia parta dalle gole e arrivi nel borgo di Castiglione, da lì il turista, sempre con un biglietto unico, possa avere la possibilità di spostarsi su Lingua Glossa e visitare la magnifica cittadina di Lingua Glossa, poi dopo spostarsi a Piano Provenzano e da lì avere le due alternative, la strada che già esiste e la cabinovia che mi pare arrivi sindaco, qual è l'idea di cabinovia, arriva al limite della zona A. Quindi creare questo circuito. Il passo successivo quindi è quello di far diventare concreto il sogno. E il sogno diventa concreto se troviamo degli imprenditori che ci credono, degli imprenditori che credono al territorio. Ma io penso che a noi non manchi nulla. Cioè deve succedere di fatto, io me lo auguro quello che è successo con il vino, che dei grandi imprenditori, non necessariamente locali, ma probabilmente anche locali, ma possono venire anche dalla Danimarca, piuttosto che dalla Toscana, mi investano nel settore turistico. Già ci sono grandi realtà, anche medie realtà nel settore turistico, grandi imprenditori e piccoli imprenditori che vivono nei nostri territori e che stanno facendo molto. Manca però quel salto di qualità che probabilmente lo possono portare dei grandi imprenditori che fanno quello che hanno fatto i grandi imprenditori nel settore vitivinicolo. Perché di fatto il suo strato già c'è, va solo valorizzato. Noi abbiamo tutto. Va solamente valorizzato quello che abbiamo. E va valorizzato a nostro avviso e con molta umiltà con quel percorso che noi abbiamo delineato, il sistema Etna-Alcantara. Quindi mettere tutto quello che abbiamo a sistema ed offrire ai turisti un pacchetto che si chiama Golello-Alcantara-Etna-Nord, con chiaramente i centri storici presenti all'interno di questo museo a cielo aperto. Grazie.